Grazie. A nome del Gruppo Socialista, l'On. Gualtieri per un minuto, prego. Grazie, Presidente. Con questo dibattito e con la risoluzione che approveremo domani, il Gruppo dei Socialisti e dei Democratici intende esprimere il suo sostegno, forte sostegno all'impegno dell'Unione Europea nel contrasto alla pirateria e al tempo stesso intendiamo manifestare la preoccupazione per la drammaticità della situazione interna alla Somalia che rafforza la necessità e l'urgenza di un'azione volta a favorire la stabilizzazione del Paese per affrontare alla radice le cause del fenomeno della pirateria. La missione Atalanta è la storia di un successo, ha consentito il trasporto di 300 mila tonnellate di aiuti, ha migliorato la sicurezza nel Golfo di Aden per tutto il traffico marittimo, dimostrando le potenzialità e il valore aggiunto operativo e politico della PESD. Al tempo stesso è necessario un maggiore impegno europeo a fianco dell'Unione Africana, a sostegno del processo di Djibouti e per questo, pur consapevoli delle difficoltà e dei rischi, esprimiamo il nostro sostegno ad una possibile missione PESD in Somalia che il Consiglio ha iniziato a esaminare. Auspichiamo quindi che tutti i gruppi in sede di emendamenti e del dibattito contribuiscono a rafforzare questo messaggio, invece di cedere alla tentazione di utilizzare in modo strumentale una vicenda drammatica o in quella somala ai fini di polemiche politiche interne ad alcuni Paesi che nulla hanno a che fare con questo dibattito e con i compiti del Parlamento. Grazie Presidente. Grazie a tutti.